Avevano messo a segno spaccate in Versilia e in Lucchesia i tre rumeni ricercati ormai da 24 ore in tutta Italia dopo essere evasi lunedì sera dal carcere di Stollicciano a Firenze. Si tratta di tre componenti di spicco della banda specializzata arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Lucca a inizio febbraio per una serie di furti commessi ai danni di megastore e centri commerciali. I tre sono scappati dal penitenziario fiorentino intorno alle 20, calandosi dal muro di cinta grazie all'enzuolo. Tra le ipotesi quella che siano fuggiti a bordo di un'auto guidata da un complice che potrebbe averli attesi fuori. Per chiarire le modalità della fuga i carabinieri stanno visionando le telecamere della zona ed effettuando altri accertamenti per verificare la presenza di eventuali fiancheggiatori. I tre fuggitivi sono Ciocan Danut Costella, Bordejano Costella e Donciu Costantin Catalin. Le ricerche vengono svolte anche con i cani molecolari del nucleo cinofili dei carabinieri di Firenze. La banda, 25 persone in tutto, tutti rumeni, era specializzata in azioni fulmine, in media un minuto e mezzo a colpo per fare razzia, preferibilmente di gioielli, cellulari, tablet, auto di grossa cilindrata. In Versilia avevano svaliggiato il troni di Pietrasanta, un colpo da 60.000 euro nel dicembre 2015. Altri due ad Alto Pascio, pochi mesi prima, ai danni del Conad, un bottino da 30.000 euro e al Mercatone 1, 40.000 euro. I tre detenuti evasi, a quanto si apprende, avevano fine pena nel 2018.